let's go baby e benvenuti alla powerhouse a quella che è la mia casa temporanea qui che sono in francia una casa presa su un sito che per queste tre settimane che sarò qui poi vedrò più avanti in questi giorni di visitare un po' di cose ma per prima cosa parliamo della casa il cazzo di bidet l'immortacci vostra mi manca il cazzo di bidet allora come state già vedendo qui sono qui nell'ingresso questo è il mega portone pare che è fatto in cemento non so se riuscite a vederlo e ora vi faccio fare un piccolo tour per prima cosa iniziamo dal bagno questo qui è il bagno come potete vedere è molto ma molto carino guardate che figo che sono posso da bimbo micchia? comunque oltre a questo potete notare che non c'è il cazzo di bidet qui ci dovrebbe essere un cazzo di bidet qui qui porca troia un bidet no scherzo ragazzi il bidet è qui ora ve lo faccio vedere subito non c'è nemmeno qui il bidet proviamo allora di qua oh e qui c'è la via segreta ragazzi di qua si va per un altro segreto ci avventuriamo oh mio dio cosa ho toccato per quello che è il ripostiglio non c'è niente il bidet non c'è nemmeno qua proviamo a cercarlo da qualche altra parte comunque il problema di questi francesi che ci dicono a noi italiani che siamo zuzzi è che non c'è il bidet porca troia non c'è il cazzo di bidet comunque ragazzi come potete vedere qui questa è la doccia molto carina molto spaziosa ha una bellissima cornetta questa qui e poi quello che fa scendere di pagoccia non so come si chiama sinceramente però non ci interessa comunque andiamo avanti ora qui abbiamo il ripostiglio per le scarpe dove c'è solo un paio di scarpe perché le altre le ho lanciate da qualche parte come faccio a casa mia qui entriamo potete subito vedere lì beh i miei due giacchetti che tengo uno molto coatto che pare uscito da non si sa dove è il mio classico giacchetto di pelle che amo tanto e questa è quella zona del letto si è un pochino bruttarella avete ragione qui ci sono tutte le mie cose e infatti le nascondiamo avete visto i pantaloni color rosa froscio si comunque il problema pure di questa camera da letto torniamo indietro più che essere piccola è che non c'è il bidet porca troia non c'è il cazzo di bidet va bene andiamo ora alla sala da pranzo quello dove diciamo c'è tutto il resto trovate le altre cose eccetera eccetera allora per prima cosa ecco qui non vi faccio vedere la mia postazione nerd l'ho oscurata la faccio vedere dopo questa qui è la cucina qui abbiamo il frigo dove ho fatto anche la spesa ragazzi avete visto non c'è niente quindi mettete un like se no io muoio di fame e mi servono i soldi di youtube mi dispiace e voi direte perché ti servono i soldi di youtube perché mi hanno dato la crepa ragazzi non ci sta la fibra quindi non posso streamare non posso essere connesso con voi con gli streaming quindi eppure un problema pure di caricare i video quindi cercherò di caricare un video ogni due giorni come sto facendo a tenervi più gradati qui abbiamo il tavolo come vedete c'è un po' di casino forbici dalla punta arrotondata come piace a giovanni mucciaccia non riesco a tolgerle qui abbiamo poi ovviamente ho già dei bicchieri là del vino ma ci abbiamo preso lo champagne sì perché mi hanno portato lo champagne per festeggiare da veri signori piastra a induzione boh boh roba varia secchio tipo molto tattico non so se riuscite a vedere qua è scritto open e qui close per chiudere cioè pure quei tastini elettrici vabbè comunque macchina dell'anespresso meno male una cosa buona almeno il caffè perché qua se bevo nel caffè di merda regà si prendono il caffè di merda comunque lampada anche molto carina pare la tolomeo questa di artemide no in verità è proprio una tolomeo se non sbaglio ragazzi questa qui costa un botto questa è la prima cosa che ci porteremo dalla francia come souvenir mi raccomando non ditelo a nicolas il tizio che sia così ragazzi è un artemide tolomeo questa è fatta a milano ragazzi costa l'ira di dio questa lampada non sto scherzando costa veramente tanto me la ruberò comunque qui invece c'è sempre la mia postazione nera non ve la faccio vedere qui vedete gli sgabelli che usiamo queste qui sono le mie due valigie una è per i vestiti l'altra c'è un po' di cose nerd qui c'è la ps4 qualche gioco varie attrezzature come microfoni eccetera eccetera e qui c'è la scatola del monitor che mi è arrivato e ora ve lo farò vedere qui abbiamo invece lo schermo della tv questo è una cosa per vedere la tv qua in francia ma non ci frega un cazzo perché parliamoci chiaro ragazzi che cazzo ci frega di vedere la tv un francese manco sa il francese poi come vedete qua c'è un cavo da ben tipo 25 metri buono mi pare buono per high speed internet questo quindi non vi fa perdere latenza perché questo qui è tacci tua nicolas questo è il cazzo di box di adsl router di merda che lui mi ha dato la sua e mi ha detto che avevano 5 6 mega di upload sto cazzo cioè non arriva manca un mega va benissimo per giocare per caglia di dio non ho anche connessione per giocare ma se non vuole fare streaming non li può fare vaffanculo vaffanculo e lo sapete perché non c'è il bidet porca troia non c'è il cazzo di bidet oltre a questo comunque vi ho fatto vedere un po' di cose questo c'è il divanetto molto sexy molto carino c'è un problema il cazzo di bidet l'immortacci vostra mi manca il cazzo di bidet no no a parte quello di problema è che è che cazzo guardate quanto è lontano dalla tv mi prendete in giro mi prendete in giro mi prendete in giro quanto cazzo è lontano comunque prima che mi chiediate perché power hai le tende chiuse sei un coglione perché tieni le tende chiuse perché ve lo voglio spoilerare alla fine ve lo spiegherò dopo non vi preoccupate ora passiamo alla postazione nerd questa è la mia postazione nerd molto bella del con un pc dall'alto mci portatile ho dei vari problemi attualmente perché si surriscalda troppo ora vediamo come riesco a sistemare le cose comunque ora vi faccio vedere appena riesco comunque a sistemare il tutto questa è la mia postazione vedete mi sono portato a parte qui il mio passaporto e gli occhiali mi sono portato qui il mio tappetino goliath della razor con cui gioco mi sono portato anche ovviamente il mio death hunter ho la black widow qui troppo bella vedete come vedete si illuminano i tasti che premete e la cosa bella di quando si illuminano i tasti che premete è che se mettete la password vicino a qualcuno tipo scrivete ciao rimangono accesi e quello vi vede la password e ovviamente rincula i soldi ed è così che mi hanno aggrato no non è vero mi hanno aggrato comunque oltre a questo come vedete questo qui è lo schermo nuovo questo qui è il pc mci con il sistema di raffreddamento con le ventole sotto si vedete è bruttissimo c'è una marea di cavi mi sono portato le astro ragazzi più che altro per un fatto che il microfono delle astro è un microfono che insonorezza molto di più quindi abito attualmente in un posto dove ci sta molto casino la sera c'è molta vita quindi è un po' un casino se dovessi fare video streaming cosa che non posso fare perché non c'è il bidet porca troia non c'è il cazzo di bidet vabbè comunque parliamo del monitor il monitor è un bank xl24 30 monitor a 144Hz questo monitor ragazzi sul pc arriva fino a 120 frame al secondo ed è per quello che l'ho preso principalmente per giocare a 120 fps e comunque perché è un ottimo monitor da gioco sia se giocate a fps sia se giocate a rts in moba qualsiasi cosa giocate è un monitor incredibile assurdo buonissimo costa 300 e pass euro infatti fortuna che sono riuscito a prenderlo comunque oltre a questo bisogna farvi vedere l'esterno della casa quindi prima di andare a parlare del problema principale di questa casa cioè il cazzo di bidet l'immortacci vostra mi manca il cazzo di bidet andiamo a vedere ora l'esterno usciamo da qui tiriamo fuori le serrande e come vedete c'è una bellissima vista ragazzi sono le otto e mezza di sera ve lo dico subito prima che mi diciate qualcosa e come vedete ragazzi mi affaccio su quella che è la piazza una delle piazze principali di Aix-en-Promo Aix-en-Promo la città in cui mi trovo come vedete è molto bella poi tra l'altro ragazzi qui fanno tutte le partite dei mondiali le fanno vedere e bisogna di una cosa c'è un tifo italiano assurdo tutti i tifo in Italia qua ieri tutti che urlavano come pazzi è gol dell'Italia è una città molto bella molto caratteristica mi ricorda molto Firenze se devo dire la verità il mio problema è che mi sento un botto solo mi sento un botto solo e un botto triste ma non mi sento solo un botto solo e un botto triste perché mi manca la mia ragazza mi mancano i miei amici mi manca la mia famiglia mi manca la mia routine mi manca poter streamare e stare connesso sempre con voi mi manca poter dormire fino a tardi uscire la sera fino a tardi mi manca sfasciarmi con gli amici non è solo per questo mi manca anche il cazzo di Bidelli mortacci vostra mi manca il cazzo di Bidelli quindi ragazzi siamo arrivati alla fine del video spero vi sia piaciuto spero vi sia piaciuto quello che avete visto di questa casa che ho temporaneamente poi vi farò vedere quella che avrò ufficialmente cioè quella proprio presa in affitto da me ragazzi un ringraziamento grandissimo a tutti voi che mi seguite che cercate di stare connessi che andate a spulciarvi le news su di me cercherò di farvi sentire presto e sempre ogni volta qui su Youtube Facebook Twitter speriamo Twitch appena riesco ad avere la fibra ragazzi io vi ringrazio a tutti un saluto ci becchiamo a revole l'italier e niente in bocca al lupo per i mondiali devo che state a casa e li seguite io che sono qua in mezzo ai francesi di merda che gufano let's go baby ci becchiamo al prossimo video